Ben tornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Caduta libera. Volete partecipare al quiz show condotto da Jerry Scotti? Vediamo insieme tutte le informazioni che si hanno al riguardo Torna caduta libera, il quiz game divertente condotto Jerry Scotti Sono molti i telespettatori ad essersi appassionati a questo gioco, che andrà in onda come sempre nella fascia preserale, prima del TG5 Giunto alla sua settima edizione, molti concorrenti cercheranno di arrivare al gioco finale per cercare di vincere il monte premi al quale si è arrivati La nuova edizione è già iniziata il 29 agosto. Caduta libera va in onda dallo studio 11 di Colonio Monzese dalle 18.45 alle 19.55 Come dicevamo sopra, prima del consueto appuntamento con lo storico TG5 Avete voglia di mettervi in gioco e sfidare gli altri concorrenti? Ecco quello che dovrete fare Per prendere parte ai casting si può inviare una mail all'indirizzo casting caduta libera, chiocciola mediaset It oppure si può anche telefonare al numero 02899-19828.come accedere, al casting di caduta libera Con le nuove edizioni spesso si stravolgono, vengono aggiunti o anche tolti alcuni giochi Questo però non è accaduto al programma condotto dal simpaticissimo Gerry Scotti Dall'ultima puntata della scorsa stagione, il campione in carica è il neuropsichiatra Michele Marchesi, che è riuscito a portarsi a casa più di 275 mila euro Qualche giorno fa, è lo stato lo stesso conduttore che durante una sua intervista ha rivelato cosa lo fa commuovere tanto a caduta libera Come riporta il settimanale di più, Gerry Scotti ha ammesso che mi commuovo quando penso ai ragazzi che grazie al quiz hanno cambiato vita Il presentatore si appresta ad aprire la nuova stagione televisiva anche con un altro programma, Tu si che vales, in compagnia dei suoi amici, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi Con loro ci saranno ancora una volta alla sugarl argentina Belen Rodriguez, che condurrà anche le iene con Mammuccari, Martin Castro Giovanni, Alessio Sacara e la riconferma della ballerina che ha vinto amici, e di cui fa parte dei ballerini professionisti, Giulia Stabile Insomma, avete voglia di mettervi alla prova con il quiz game, caduta libera, presentato da Gerry Scotti? Cosa stai aspettando? Potete accedere ai provini, mandano una semplice email, o chiamando al numero che è stato scritto sopra Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale, per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video